Un vero e proprio massacro, quello compiuto oggi dai talebani in una scuola pubblica gestita dall'esercito a Peshawar in Pakistan. Sarebbero 104 i morti, di cui 84 studenti tra i 7 e i 14 anni. Lo riferiscono le autorità locali. Altri 500 sarebbero tenuti in ostaggio in azione l'esercito. Siamo in una fase di passaggio difficile. L'Europa è a un bivio. Lo ha detto Renzi, aprendo le comunicazioni alla Camera sul prossimo Consiglio UE di giovedì. La Commissione europea torna a fare politica all'invito del Presidente del Consiglio, che ha accennato poi alla questione degli investimenti per la crescita. L'Europa ha fatto una scelta, detto Renzi dipenderà da Juncker se sarà percorsa fino in fondo. Nuova giornata nera per Piazza Fari, che dopo una buona partenza si ritrova a fare i conti con le vendite, in particolare sul settore bancario. Sul vecchio continente pesano le surbulenze sui mercati finanziari legate al calo delle quotazioni del petrolio e del rublo. Sull'ottovolante l'indice Fuzzi-Mib, il differenziale tra BTP decennali e Bund tedeschi si attesta a 139 punti base. Caso Marot no al prolungamento della permanenza in Italia per la torre dopo l'Ictus e no al rientro in Puglia di Girone per le festività natalizie. La Corte Suprema indiana oggi non ha accolto le istanze presentate dai fucilieri di Marina coinvolti nel caso dei due pescatori indiani uccisi il 15 febbraio 2012. 17 ore di terrore ieri in una caffetteria di Sydney, dove decine di persone sono state prese in ostaggio da un uomo armato, sedicente e simpatizzante dell'Isis. Nel blitz, tre morti, compreso il sequestratore, un predicatore iraniano con precedenti per reati violenti. Aveva problemi di instabilità mentale, ha detto il premier australiano Abbott. Blitz antimafia nel mandamento di Resuttana a Palermo. In corso un'operazione della Guardia di Finanza alla ricerca del tritolo acquistato da Cosa Nostra per uccidere il PM Nino Di Matteo. Fermato il boss Vincenzo Graziano, ritenuto il reggente della Cosca dopo l'arresto del capo Vito Galatolo il 23 giugno scorso, poi scarcerato il mese dopo.